Bene, oggi abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti qua con noi tre medici epidemiologi molto importanti in Italia. Sono i fondatori e responsabili dello studio Molisani, che è il più grande studio sugli stili di vita e sulla dieta condotto in Italia su 25.000 persone. Sono dei ricercatori che nel loro percorso hanno più di 20 anni di collaborazione con la Fondazione Mac e di interazione. Da qua l'idea di questo evento congiunto. Il focus del convegno è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea che però si va perdendo. Ne parliamo tanto, diamo per scontato tutti di conoscerla. Ebbene, c'è un rapido allontanamento e quindi c'è bisogno di spiegare ancora, di fare dei programmi di educazione alimentare, di evitare anche quel trend verso i cibi ultraprocessati che si stanno dimostrando anche nella popolazione italiana dannosi rispetto alla salute e alla prospettiva di vita della popolazione.